Oggi ti presento un sito fantastico che ti permette di risolvere tanti problemi all'interno di Ableton come ad esempio la non possibilità di aprire un progetto per via di alcuni plugin che in questo caso magari possono avere dei problemi, possono in questo caso avere dei conflitti con altri plugin quindi i plugin crashano e crasha poi anche Ableton Oggi ti mostro un sito fantastico per ovviare a questo problema quindi resta qui con me così andiamo a vedere di cosa si tratta Ciao a tutti e benvenuti qui su Levelstep Oggi come vi ho detto prima andiamo a vedere un bel sito che ci permette di appunto ripulire i progetti di rimuovere alcuni plugin di soprattutto, questa cosa non ve l'ho detto prima ma ve lo dico adesso di poter cambiare tutta l'intonazione, tutta la tonalità del progetto Fantastico, che ne so, avete fatto un progetto in Fa maggiore voi potete spostarlo in La maggiore eccetera eccetera ci sono appunto diversi strumenti all'interno di questo sito caricando poi il progetto che ci permette appunto di fare tutte queste cose soprattutto quello di risolvere il problema di non poter aprire certi progetti ed eccoci qui all'interno del sito questo progetto si chiama Abletool.live vi faccio vedere subito quello che è in grado di fare come vi dicevo prima, di ripulire tutto il casino che c'è appunto all'interno di un progetto che possono essere delle tracce inutili, possono essere delle clip ma anche i dispositivi che sono disattivati perché noi li abbiamo disattivati non li utilizziamo mai e quelli possono magari creare del consumo e quindi in questo caso lui ce li elimina oppure ecco soprattutto questa cosa qua Stop Crushed quindi in questo tool va a rimuovere il plugin ovviamente non riesce a capire qual è il plugin incriminato quello che crea il problema però voi potete eliminarla 1 a 1 e capire bene o male qual è e poi possiamo in questo caso velocemente fare un transpose quindi andare a cambiare la tonalità del brano qui sotto ci spiega meglio quello che fa tutto quello che viene fatto viene creata poi una copia una seconda copia quindi tranquilli io comunque prima di fare questa cosa vi consiglio di fare una copia di backup così almeno siete al sicuro l'unica cosa che vi segnalo è che questo sito come potete vedere qui in alto ableton-utility.versal.app è stato caricato su un altro servizio perché? perché quello ufficiale se andiamo direttamente su Abletool il sito come potete vedere non funziona più ma è stato caricato come vi dicevo su questo servizio è stato sempre lo sviluppatore a farlo non ho trovato altre informazioni in merito a chi appunto ha creato questo Abletool si chiama però Spencer qui potete offrire magari un caffè perché quello che ho fatto è veramente bellissimo volevo provare a salvarlo ecco nel mio computer tramite alcune cose non ci sono riuscito magari poi ci proverò vediamo oppure si può utilizzare ecco tramite la macchina virtuale la macchina che ci riporta indietro nel tempo alcuni siti c'è questo sito si chiama Wayback Machine che è mettendo un sito e questo qua vi fa vedere anche com'era tipo 4 anni fa quel sito e questo appunto se io faccio fammi vedere l'ultima ecco pagina ecco qua e si presenta allo stesso modo quindi adesso io prendo un progetto e facciamo dei test e proviamo questi strumenti io vado qui nell'editor così almeno ecco posso vedere tutti gli strumenti e qui posso caricare il progetto va bene ok adesso sto caricando un progetto facciamo finta che magari ecco qui fino a qua sta caricando il progetto fa all'improvviso Ableton crash perché c'è qualche plugin che non funziona in questo caso ecco non possiamo andare a fare altre modifiche direttamente dobbiamo prendere il file del nostro progetto e caricarlo all'interno di quel sito e adesso vi faccio vedere come funziona velocemente tanto voglio far vedere ecco adesso il progetto ad esempio questo progetto è in re minore lui tra l'altro ci va a cambiare anche la voce quindi anche i file audio lui ci modifica ci cambia la tonalità anche dei file audio tranne è intelligente e capisce che non deve farlo sulla batteria ad esempio qui ci sono diversi plugin ok c'è il free comp ah sì questo è il progetto che abbiamo utilizzato per il mix e mastering utilizzando la suite free suite scusate mi gioco di parole quindi appunto i plugin gratuiti che potete scaricare ecco velocemente quindi qui ci sono un casino di cose ci sono altri plugin ci sono c'è anche lo span ma ok mettiamo caso che appunto i plugin della free suite non funzionano io li posso eliminare tutti oppure a uno a uno quindi adesso chiudo questo progetto perché al momento non mi serve ah vedete che c'è anche qua una traccia audio vuota mettetelo mettetelo in mente perché poi questa qua possiamo anche eliminarla possiamo eliminare le tracce dove non c'è niente qua non c'è nessuna clip e lui mi può eliminare questa traccia qua non c'è niente e lui mi può eliminare questa traccia ma intanto dobbiamo vedere come eliminare i plugin quindi qua chiudo vi dico no ok qui abbiamo il progetto quello di prima perfetto eccolo qua ovviamente noi dobbiamo caricare il file.ls ve lo faccio meglio da vicino ecco qua noi dobbiamo prendere questo file e caricarlo all'interno del sito quindi prendo questo file dopo magari mi assicuro di aver fatto una copia di tutto il progetto mi raccomando di tutto questo mi faccio una bella copia di backup almeno sono appunto sicuro quindi prendo questo file e lo trascino qui dentro beh oppure direttamente cliccare su select file la stessa cosa la cosa bella che mi dice adesso qua mi dà alcune informazioni come quanti plugin ci sono in questo progetto 11 bpm 125 ci sono anche 8 tracce midi e poi ci sono 4 tracce audio e ora qui posso anche vedere qui sotto tutte le mie tracce del progetto con tutti i gruppi questo è il gruppo della batteria con tutti questi suoni c'è la traccia premaster e questi mi servono poi per la modalità di project transposer quindi per cambiare poi la tonalità del brano va bene? ma questo qua andiamo a vedere adesso andiamo a vedere la cosa più importante plugin remover quindi andiamo a rimuovere i plugin quindi clicco qua perché voglio appunto rimuoverli utilizzando questa sezione questo tool e vado su questo triangolino per vedere tutti i plugin che sono contenuti in questo progetto vedete tutti quelli della free suite più lo span sia anche il vmeter togliamoli tutti non c'è una voce per togliere tutti però pazienza facciamo così poi voi ovviamente vi consiglio di non rimuoverli tutti per capire qual è il problema nel senso che se li rimuovete tutti poi non sapete qual è stato il plugin che vi ha causato il problema magari che ne so potete pensare ah sì forse sarà questo tac 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 senza nessun plugin proprio vuoto facciamo questa copia e poi proviamo le altre cose dopodiché scendiamo in basso e facciamo process file ci clicco fatto mi ha scaricato direttamente la copia dove tra le parentesi quadre c'è direttamente che è stato processato con Abletool ora una volta che io ho già questo file scaricato dal sito mi raccomando non dovete aprirlo da qui stesso questo è il file ve lo dico sempre .als significa Abletool live set quindi è un set non è tutto il progetto il progetto è quella cosa che contiene più cose è una cartella con tutti i vari file tra cui il file live set quindi io questo lo devo tagliare me lo devo spostare dentro la cartella del progetto quindi qui dentro dove appunto la cartella nera di Ableton che la crea lui questa qua vedete che c'è l'icona nera e qui ci sono poi i campioni backup eccetera eccetera ora noi facciamo clicchiamo qua vediamo se funziona quindi dovrei in questo caso avere una copia senza plugin andiamo a vedere subito se è vero andiamo sulla traccia premaster vi ricordate che c'era appunto c'era un plugin anche su ovviamente drums ci sono ovviamente solo i dispositivi di Ableton su synth non c'è niente su voco non c'è niente andiamo a vedere appunto meglio in tutte le tracce non c'è niente nessun plugin guardate guardate questa cosa è bellissima ora invece andiamo a cambiare appunto tonalità quindi qua chiudiamo questo progetto gli dico di no e ripetiamo la stessa cosa prendo questo lo trascino e adesso togliamo la spunta da qui perché non voglio più rimuovere i plugin ma voglio cambiare ecco tutta la tonalità quindi gli dico i semitoni magari facciamo tre di quale tracce però ma facciamo di tutte le tracce ovviamente lui già capisce che la batteria non lo deve fare perché sono appunto dei one shot sono dei suoni ecco percussivi che non voglio cambiare la tonalità però potrei anche farlo va bene basta ah qui ci sono altre cose ignora ecco le clip audio con il beats con il warping beat perché magari questo tipo di warping si utilizza di più per i suoni percussivi per i suoni a tonali e quindi io posso cliccare qua e lui appunto ignora la trasposizione oppure posso anche ignorare i file non warpati questo è bello pure perché ad esempio se quando noi cambiamo appunto il pitch ci cambia anche la velocità se la traccia audio non è warpata e lo posso evitare di fare questo dopodichè al solito process file che prima era appunto in re minore adesso dovrebbe essere dovrebbe essere fa minore vedete che ha cambiato ecco tutte le varie clip più 3 guardate ve lo faccio vedere più 3 ha messo su tutte le clip audio poi ha cambiato anche i file midi quindi tutte praticamente le note esatto fa ok come dicevo prima fa minore vi faccio ascoltare come era prima chiudiamo e facciamo ora mi pare l'ultima operazione sì quella di appunto ripulire il progetto qui ci sono tracce vuote come vi dicevo ci sono anche il clip vuote adesso cosa faccio vado qui prendo il file lo trascino qui e togliamo la spunta da qua e attiviamolo da qua rimuovi qua possiamo fare rimuovi i plugin disattivati ho gli effetti e instruments quindi sia plugin sia gli effetti sia gli instruments quindi anche i dispositivi di Ableton cosa ci dice pure qua ci dice pure che se c'è l'automazione di on e off su alcuni dispositivi verranno comunque rimossi quindi state attenti quindi clicco qua rimuovi le clip disattivate perché a volte magari disattiviamo le clip per dire vabbè poi dopo mi possono servire invece poi non servono mai quindi rimuovi le clip disattivate e rimuovi le tracce senza le clip adesso lui mi andrà a rimuovere anche la traccia pre-master poco importa poi la posso creare successivamente process file ecco qua come potete vedere ha appunto tolto la traccia audio sotto che c'era adesso non c'è più non c'è più nemmeno la traccia pre-master però la posso appunto ricreare infatti qua mi dice che manca che tutti questi erano sul pre-master però io per adesso questi mi li metto ecco sul master perfetto quindi mi ha pure eliminato alcune clip che erano disattivate qui c'erano mi pare delle clip disattivate e delle tracce vuote ora vedete che tutte le tracce hanno almeno una clip ed eccoci qui alla fine di questo video io spero di avervi consigliato un bel sito secondo me da adesso in poi deve essere sempre nei preferiti del vostro browser così quando vi serve tac lo prendete e potete risolvere diversi problemi peccato che non ci sia una versione software quindi che possiamo appunto installare sul nostro computer perché se anche questo sito viene buttato giù non proprio buttato giù perché è stato caricato su Vercel che è appunto una piattaforma per poter caricare dei progetti però chi lo sa magari su questo sito che è stato adesso ospitato non funziona più qualcosa viene eliminato dall'autore stesso o da qualcun altro succede che appunto non possiamo più utilizzare questo appunto questo tool anche se possiamo utilizzare comunque Wayback Machine che ci permette di ritornare indietro su alcuni siti che vi lascio sempre in descrizione fatemi sapere mi raccomando la vostra qui sotto nei commenti se vi servirà se l'avete utilizzato o se le utilizzerete fatemi sapere tutto mi raccomando come sempre noi ci vediamo alla prossima con nuovi contenuti io vi auguro una buona motivazione ma soprattutto una buona musica ciao musica musica Grazie a tutti.